Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare i preferiti del mese di gennaio, anche se più che preferiti del mese stavolta sarà più un top e flop, perché voglio parlarvi di varie cose e non tutte mi sono piaciute in realtà, quindi vorrei un attimo appunto discuterne un po' con voi, sentire anche i vostri pareri, perché sono molto curiosa. Allora, si tratterà soprattutto di, anzi solo direi, di prodotti audiovisivi, perché è quello che ho consumato prevalentemente. Ho anche giocato ai Pokémon, ma non penso sia particolarmente rilevante, non c'è molto da dire. E ho letto anche La scopa del sistema di Wallace, che sicuramente sarebbe il mio libro top del mese, però appunto anche lì ne parleremo in altri video sicuramente. E quindi niente, iniziamo invece con quello che ho visto in questo mese. Allora, io inizierei dai film. Questo mese sono andata al cinema due volte e ho visto due film in totale, quindi quelli lì. E sto parlando di Il ragazzo e l'airone e Poor Things, che sono anche i due di cui si è parlato di più comunque in questo mese. Allora, partiamo dal ragazzo l'airone, che come dire, se lo dovessi appunto mettere nelle top o nelle flop, secondo me sarebbe più un flop per me, nel senso che non è un brutto film minimamente, però sinceramente a me ha un pochino annoiato. E siccome è un film molto surreale, ovviamente fantastico, e ha tanti elementi che io ho cercato, diciamo, per tutto il film di decifrare, ma non perché tutto debba avere necessariamente un senso, però diciamo che questi elementi simbolici, cioè io li avevo presi come simbolici e ho cercato appunto di capire che cosa dovessero rappresentare, no? E per alcuni versi ci sono riuscita, per altri invece no, cioè mi è sembrato molto un po' una cozzaglia di cose, un po' a caso, che doveva sicuramente creare, avere un impatto emotivo più che altro sullo spettatore e meno razionale, ok? Però a me non è riuscito neanche a coinvolgere così tanto a livello emotivo, cioè a volte c'erano dei passaggi che mi sono piaciuti molto e che mi hanno un po' appunto coinvolta ed emozionata, però erano talmente brevi e talmente pochi che comunque nel complesso il film non mi ha detto granché. È una storia, per chi non sapesse di che cosa si tratta, è una storia che ha come tema centrale quello del, diciamo, superamento del lutto per la morte della madre del protagonista, che è un bambino nel momento in cui appunto sua madre muore, e però da lì in poi c'è tutta una costruzione di questo mondo, diciamo, fantastico, di questo mondo alternativo in cui lui fa questo viaggio che dovrebbe essere nella sua mente per, diciamo, recuperare sua madre, cioè riportarla a sé, riportarla in vita, diciamo, però più che altro è un viaggio di appunto superamento del lutto, comunque di crescita, ma tutto questo è il, diciamo, il presupposto, poi il viaggio in sé, questo mondo appunto che viene creato è probabilmente il bello del film e io so, perché poi ho visto varie, diciamo, recensioni, varie interpretazioni, che ci sono tanti elementi autobiografici e che il personaggio dello zio di questo bambino, che è tipo lo zio pazzo, che è impazzito a forza di leggere libri e di scrivere, insomma, è un artista pazzo sostanzialmente, è praticamente, dovrebbe rappresentare Miyazaki stesso e c'è una scena che fa capire bene perché lui praticamente, questo zio, sarebbe quello che ha creato questo mondo parallelo e c'è una scena in cui lui regge le, tipo, mattonelle o delle pietre, insomma, una costruzione di mattonelle o di pietre che rappresentano questo mondo parallelo, cioè che tengono in piedi proprio questo mondo parallelo, non vi spiego esattamente cosa succede in quella scena, però, insomma, questo cumulo dovrebbe rappresentare invece la produzione artistica di Miyazaki perché il numero delle pietre o mattonelle è lo stesso del numero dei film che ha fatto Miyazaki, quindi, insomma, ci sono tanti riferimenti a se stesso, alla sua vita, molti di più sicuramente di quelli che io posso aver colto perché io, cioè, a parte che appunto durante la visione non ne avevo colto neanche uno, poi ne ho visti alcuni appunto nelle recensioni altrui, però, cioè, sta di fatto che io comunque Miyazaki lo conosco molto poco, ho visto soltanto La Città Incantata mille anni fa e Kiki, le consegne di Kiki, di quello lì, pochi anni fa, però, cioè, nel senso, ne ha fatti molti di più e non, e comunque mi sento di non aver, cioè, non lo conosco, io Miyazaki, bisogna dire la verità, quindi probabilmente questo film può piacere di più o a chi riesce a farsi coinvolgere a questo mondo, appunto, che ha costruito senza cercare troppi significati ovunque, che è un po', probabilmente, un mio problema costante, però comunque non è solo quello, perché a volte, cioè, ci sono tanti film che mi piacciono perché mi coinvolgono emotivamente, anche se non hanno chissà quale senso dietro, quindi non è che è quello il problema, cioè, quello è un problema magari di approccio, perché cercavo delle cose che non c'erano, però comunque se mi avesse coinvolta emotivamente avrei abbandonato tutta questa cosa, semplicemente non ne è riuscito a farlo, ecco. E comunque, cioè, non lo so, è un film che è piaciuto molto, in realtà, cioè, io ho visto tante persone allogiarlo molto, io, sarà che conosco poco Miyazaki, però, appunto, non mi ha coinvolta molto, forse, appunto, può piacere o alle persone che si fanno coinvolgere di più o alle persone che conoscono di più Miyazaki e che, quindi, riescono a cogliere tutti questi rimandi autobiografici e so che è stato visto anche come una specie di eredità, no, cioè, di testamento, cioè, l'ultimo film che racchiude tutta la sua opera precedente, io questo non lo so, non l'ho visto, ma non potevo neanche vederlo. Quindi, insomma, il ragazzo Lerone è un po' a metà strada tra top e flop, cioè, mi è comunque piaciuto alla fine, cioè, nel senso, è stato godibile, però, appunto, un po' mi ha anche annoiata, quindi siamo a metà strada, ecco. Poi, invece, Poor Things mi è piaciuto moltissimo. Allora, è un film complesso da descrivere, credo che comunque l'abbiano visto tutti, quindi vi dirò i motivi per cui mi è piaciuto, prevalentemente non sto a spiegarvi il film, perché credo che, appunto, l'abbiano visto tutti. Allora, partiamo dai presupposti. Intanto, io non ho letto il libro, quindi non vi posso fare confronti con il libro. Ho visto un po' di pareri su questo e ho visto che ci sono delle differenze anche abbastanza importanti, però che tendenzialmente è stato visto come una buona trasposizione, nonostante le differenze. Io, prima o poi, recupererò anche il libro. Non l'ho fatto perché, allora, l'avrei voluto fare quando è uscito nella nuova edizione di Safarà, quindi tipo a settembre. Lì avevo molto hype. Poi, siccome non l'ho recuperato subito, e siccome dopo l'hanno letto in tantissimi, e io, cioè, è diventato per me uno di quei libri che, siccome l'ho visto dappertutto, per mesi, alla fine ti sembra quasi di averlo letto e perdi interesse, anche se di fatto non l'hai letto. Ed è stato così per me. Tra l'altro, a questo punto, cioè, ho detto, vabbè, vediamo il film e poi magari recupero il libro. Ora devo dire che non ho tutta sta fretta, tutta sta esigenza di andarmelo a recuperare subito, onestamente, perché comunque, appunto, il film mi è piaciuto tanto, la storia mi è piaciuta tanto anche così. Primo o poi, sicuramente, ma tanto Alice Delgay lo voglio leggere, a prescindere dal film, quindi anche l'Anark lo voglio leggere, non solo Povere Creature, quindi prima o poi sicuramente lo recupero, però, vabbè, ora non ne sento l'esigenza. Comunque, il film in sé, allora, mi è piaciuto molto, però non è, secondo me, è un film perfetto. È un film molto, molto strano, molto particolare, più che altro è molto complesso, ma proprio nel senso che è saturo di elementi, cioè ci sono tantissime cose all'interno, anche a livello solo registico ed estetico. Cioè, è un casino, questo film, e io sono uscita dalla sala che ero abbastanza scombussolata, ma perché, secondo me, è impossibile che annoi, perché ci sono tanti elementi, appunto, a cui prestare attenzione. Poi, ad esempio, il tono è molto complesso, cioè cambia molto spesso, ci sono elementi di comicità e poi ci sono elementi drammatici, cioè è un po' veramente un mix di cose, secondo me è molto riuscito da questo punto di vista. A livello estetico è meraviglioso, lasciamo proprio perdere, cioè i costumi sono stupendi, le inquadrature mi sono piaciute, cioè la regia comunque mi è piaciuta, anche se poi ci torniamo perché ho delle perplessità, però mi è piaciuta molto e poi c'è questa estetica anche proprio tipo un po' steampunk, no? Cioè, è come se siamo in una Londra vittoriana o comunque siamo in epoca vittoriana e poi però le città che vengono fatte vedere hanno questa estetica super colorata, ma proprio con una saturazione appunto altissima, cioè saturazione proprio nel senso di colori molto accesi e questi costumi particolari, cioè c'è proprio un'estetica molto particolare, molto strana che non so neanche dirvi, cioè a me non è che faccia impazzire di per sé, cioè se mi fate vedere una foto appunto di frame in cui si vede una delle città che hanno voluto far vedere, tipo uno dei vari paesaggi, no? Non è che... cioè non mi fa impazzire in realtà di per sé, però ci sta molto bene nel film perché dà appunto ancora più complessità, è quasi un'ocronia, è quasi una distopia, cioè nel senso non è assolutamente realistico, ci sono tanti elementi che non sono realistici infatti e quindi ci sta molto bene anche questa cosa qui. È come se fosse, sì, un'età vittoriana ma futuristica, cioè è tutto molto strano, cioè è veramente strano come film. E poi la storia in sé mi è piaciuta molto, però sul finale secondo me è un po'... ci sono delle scene in cui ho detto ma davvero... non so come spiegare in realtà perché non avendo letto il libro faccio anche fatica poi a dire come doveva essere, però ho il sentore che ci siano alcune scene che non erano necessarie oppure che sono state spiegate male, un po' frettolose, quindi non ho ben capito lì, cioè lì dovrei leggermi il libro per capire che cosa... le scelte che sono state fatte. Alcune non le ho capite ma ci sta. E la cosa forse migliore o comunque una delle cose migliori è anche la recitazione di Emma Stone. Io onestamente Emma Stone non la ho mai considerata più di tante, però in questo caso Emma Stone mi è piaciuta tantissimo, cioè se dovessi considerare solo questo film direi una delle mie attrici preferite, perché secondo me qui Emma Stone ha fatto un lavoro pazzesco, cioè comunque interpretare bene un personaggio così particolare è veramente difficile. Io so che lei è anche stata direttrice, mi sa, l'ha anche diretto questo film. Comunque insomma è un film che si vede che è costruito molto bene, c'è stato tutto un lavoro in ogni singolo dettaglio, è fatto molto bene. Ripeto, alcune scelte non so se io non le ho capite o se non sono state super a fuoco, però in generale è un bellissimo film. Esci dalla sala che sei veramente un po' sbalordito. Io ero presissima nel corso di questo film, davvero. La storia in sé è molto anche lì complessa, ricca di significati, di sfumature. Io so che è stato visto molto come film femminista e da un lato sicuramente lo è, cioè anche io l'ho pensato quando l'ho finito, però so anche che la storia di Bella non credo volesse rappresentare soltanto la donna, cioè l'emancipazione della donna. Penso che sia qualcosa di un pochino più universale, non so. Però sì, sicuramente c'è anche quell'elemento lì, anche se comunque non è un film molto politico, cioè non mi sembra, non mi è sembrato anche perché l'aspetto politico che viene proprio esplicitato all'interno del film viene menzionato una volta e poi viene accantonato, quindi tutto l'aspetto socialista che immagino nel libro sia più presente perché se è stato menzionato vuol dire che c'è un motivo, però non viene per niente sviluppato. L'ultima cosa che volevo dire riguardo alla regia è che io ho visto di Lantimos anche The Lobster che mi è piaciuto moltissimo, anche più di questo forse, però io, cioè ok, ne ho visti solo due, quindi ovviamente adesso tra l'altro sono molto curiosa di andare a vedere gli altri, cioè voglio proprio recuperarli, però non ho capito sinceramente come si collegano i due film, cioè ho sentito dire che c'è comunque una cifra distintiva di Lantimos in questo film che si vede bene, eccetera, io ci credo, però io non ho capito, cioè avendo visto solo questi due io non ho capito come possono essere fatti dallo stesso regista, probabilmente perché sono stata forse, mi sono concentrata forse troppo sull'estetica, perché l'estetica è all'opposto rispetto a The Lobster che era molto minimalista, i colori erano molto spenti, c'erano pochi elementi, cioè insomma qui è proprio il contrario, coloratissimo, saturo di elementi, poi c'è anche il bianco e nero, ma poi si passa dal bianco e nero al colore, quindi anche lì una complessità, una varietà, cioè che non c'è in The Lobster, quindi non lo so, poi me lo ricordo comunque come un film abbastanza lento che si sofferma molto sulle inquadrature, sulle scene, così questo non così tanto almeno, insomma, quindi non ho capito appunto in cosa consiste, diciamo, la cifra stilistica di Lantimos, ma questo anche perché io non ci capisco nulla di cinema, cioè sto cercando di capirci qualcosa, però sono ancora molto acerba, quindi non lo so, ecco se mi volete illuminare su questo punto di vista, scrivetemi voi che cosa Lantimos ha messo in questo film che è riconoscibile come suo, no? Comunque andiamo avanti, passiamo alle serie tv, serie tv e anime in realtà, partiamo proprio dal flop, dall'unico vero e proprio flop di questo video, cioè che proprio è un flop, ovvero Normal People, la serie tv di Normal People, Ora, io l'ho provata a vedere perché ho sentito dire da varie persone che è una bella serie tv, che è anche magari meglio, alcuni hanno detto che è meglio del libro, altri che hanno apprezzato anche il libro, comunque hanno apprezzato anche la serie tv, e ok. Io il libro non l'ho apprezzato particolarmente a livello letterario, cioè non credo che Sally Rooney abbia sta grande scrittura, non mi ha colpita per nulla, però se non altro quando l'ho letto, l'ho letto in breve tempo perché mi aveva preso tantissimo la storia, cioè mi aveva coinvolta molto e io speravo semplicemente questo per la serie tv, cioè non è che mi aspettavo sto grande capolavoro, mi aspettavo una serie di intrattenimento, però godibile e che mi prendesse, mi coinvolgesse. E capisco che cioè è una serie tv che già in partenza non pensavo potesse diventare tipo la mia preferita perché comunque si parla di un amore adolescenziale, cioè è quello il pulcro, quindi comunque ok, però sono serie tv che magari mi guardo perché sono curiosa per intrattenimento, non lo so, cioè l'anno scorso ad esempio ho visto Heartstopper che è una serie tv su un amore tra 14 anni praticamente ed è molto semplice, cioè è una storia molto semplice, non è che, però è coinvolgente, era carina, poi non è che mi abbia lasciato grand cap, però era carina, era coinvolgente, mi aveva presa molto quando l'ho vista e quindi niente, ho provato a guardare Normal People ma io non ho capito sinceramente, anche perché è una serie molto acclamata questa, io non ho capito, non ho veramente capito nulla del motivo per cui questa serie piace così tanto, cioè allora appunto il fulcro della serie tv è la loro storia è la storia d'amore tra non mi ricordo neanche già più come si chiama lui, Connell, Connell e Marianne che sono due ragazzi che avranno 16 anni, 17 anni all'inizio forse, allora diciamo così, questa serie tv e in generale questa storia anche nel libro è basata sulla loro scarsa comunicazione, cioè sugli amori contemporanei che però essendo noi oggigiorno incapaci di comunicare non riusciamo neanche a vivere relazioni serie perché preferiamo la vaghezza e questa vaghezza poi porta a insomma non riuscire a costruire qualcosa di serio, ok? Quindi ad un'instabilità una precarietà continua va bene però io questo l'ho capito cioè questo è chiaro e nella serie si vede bene perché questi non parlano mai di niente e già questo è un po' fastidioso da guardare però vabbè ma più che altro io non capisco nella serie in base a cosa questi si piacciano e si mettano insieme o comunque abbiano questa relazione cioè sembra veramente che passino dal nulla a baciarsi e fare cose cioè non si capisce da cosa parta il tutto non c'è feeling secondo me e questa è una cosa che io so che sicuramente qualcuno non sarà d'accordo con me però io non l'ho visto cioè veramente mi è sembrato tutto a caso non lo so e ci sta pure cioè ci sta pure che questi vabbè a caso si piacciano va bene e abbiano questa relazione momentanea però il fatto che poi questa relazione che non si è mai conclusa proprio perché appunto loro non riescono a parlare eccetera rimanga però la relazione della loro vita e loro continuino a cercarsi in continuazione anche anni dopo questo non lo capisco se non c'era un motivo iniziale no per tutto questo cioè se è una cosa proprio totalmente a caso allora come fa a durare negli anni come fate ad avere ancora questo grande sentimento l'uno nei confronti dell'altra a continuare a cercarvi cioè perché io non ho capito raga però ve lo giuro non ho capito cioè io continuavo a guardarla ed ero cioè mancava sempre qualcosa e capisco che è un po' anche quello il senso magari però è proprio brutta da guardare cioè non non lo so non mi non mi ha coinvolta per niente cioè per me non hanno feeling questi due non hanno non lo so magari è un problema del cast magari io non non ho non ho apprezzato questi attori cioè non lo so però non lo so diciamo che non mi interessava per niente io speravo appunto solo in questo che fosse che mi prendesse che mi coinvolgesse e che mi facesse venire voglia di andare avanti di divorarmela perché volevo andare avanti invece non l'ho mollata dopo cinque puntate perché non vabbè ne ha dodici comunque cioè quindi non è che però sì non non mi interessava andare avanti non che sia una grande perdita cioè posso stare anche senza però diciamo che ci sono rimasta un po' male mi aspettavo un po' meglio ecco quanto me ok allora finiamo invece con una nota positiva ovvero Jujutsu Kaisen la seconda stagione di Jujutsu Kaisen che è un anime e allora se non lo conoscete io vi consiglio caldamente di recuperarlo o anche il manga se vi piace leggere i manga allora io avevo visto la prima stagione tempo fa e adesso è uscita la seconda è uscita da un po' ma io l'ho voluta recuperare quando una volta finita una volta usciti tutti gli episodi e praticamente questo anime si incentra su una scuola di arti occulte non so come si chiama comunque insomma di stregoneria praticamente perché appunto siamo in questo Giappone in cui ci sono delle maledizioni che sono praticamente dei mostri che però nascono dai sentimenti negativi degli esseri umani e quindi nascono in continuazione cioè capite che non posso cioè in un certo senso sono necessari non possono essere sconfitti permanentemente per lo meno perché appunto all'interno di questo contesto c'è in particolare una maledizione molto forte forse la più forte di tutte che è Sukuna che riesce a diciamo incarnarsi in un personaggio e quindi in qualche modo ritornare in vita anche se non ha il controllo vero e proprio di questo personaggio ci sono praticamente queste venti dita di Sukuna che che lui vorrebbe recuperare vorrebbe far mangiare appunto all'umano che lo che lo contiene per diciamo recuperare il suo potere totale ok l'ho spiegata malissimo però è perché neanche io so benissimo nel senso più o meno è così però di preciso non lo so e ok e praticamente appunto in questa scuola di arti occulte ci sono vari personaggi ci sono gli insegnanti e ci sono gli alunni e uno di questi alunni appunto è quello che il recipiente di Sukuna viene chiamato continuamente così che è il protagonista anche dell'anime no? si chiama Yuji e però appunto la cosa bella secondo me di Jujutsu Kaisen oltre alla trama che comunque secondo me è sviluppata bene sono i personaggi cioè i personaggi sono stupendi io mi sono affezionata tantissimo a loro a tutti tanto che mi sono presa un sacco di sticker e non so come dire ho proprio assimilato molto questa scuola questi personaggi un po' come come degli amici no? cioè mi sento molto partecipe di quello che gli succede proprio perché mi sono affezionata a loro cioè secondo me la chiave di tutto è questa in Jujutsu che ha dei personaggi molto forti e quindi la trama diventa interessante più che altro per quello perché tu sei affezionato ai personaggi quindi anche a quello che gli succede perché di per sé la trama è molto semplice cioè loro appunto sconfiggono queste maledizioni e poi c'è l'elemento principale diciamo di trama è che c'è questo stregone nero ci sono in generale vari stregoni neri che utilizzano la stregoneria appunto per degli scopi diciamo negativi tra cui uno che è Ghetto il principale che vuole praticamente esterminare l'umanità e far rimanere cioè gli umani senza poteri ok? far rimanere soltanto gli stregoni e poi anche le maledizioni stesse in realtà alcune maledizioni sono molto diciamo molto sviluppate e hanno un pensiero proprio e alcune appunto stanno tramando un piano per eliminare gli umani e rimanere soltanto loro perché comunque anche le maledizioni si reputano umane proprio perché nascono dalle emozioni negative degli esseri umani e si reputano anche in un certo senso più autentiche proprio perché rappresentano le emozioni negative che forse sono quelle più vere che tendiamo a nascondere ma che sono quelle che dentro di noi sono più sentite e quindi comunque in qualche modo l'umanità più vera è questa ecco questa è un po' la loro ideologia questo ovviamente è importante perché poi ci sarà uno scontro tra gli stregoni e questi stregoni neri e queste maledizioni che hanno questo piano di sovvertire tutto quindi niente io sono molto affezionata a questo anime e ve lo consiglio molto l'unica cosa l'unico difetto che posso trovargli è che è abbastanza veloce succede tutto forse troppo velocemente perché comunque è un anime che è molto intelligente secondo me per come è fatto perché ti spiega molte cose e quindi ad esempio ogni stregone ha un modo di combattere un modo tutto suo di combattere ognuno di loro crea questi domini che sono praticamente delle zone che loro riescono a creare appunto dal nulla in cui il loro potere è potenziato ancora di più e ognuno di loro lo fa in modo diverso in base a qual è il suo potere in base a qual è il loro modo di utilizzare l'energia malefica e ci sono tanti momenti in cui ti spiega proprio come funziona il sistema magico ecco diciamo chiamiamolo così e quindi questo mi interessa molto perché ti permette proprio di capire bene come funzionano le cose e quindi di farti coinvolgere ancora di più però è tutto fatto molto velocemente quindi a volte dei pezzi te li perdi perché lo devi guardare due volte per riuscire a capire tutto e ricordartelo poi può essere anche un pregio perché se avete paura di annoiarvi ecco sicuramente non vi annoierete perché succedono tantissime cose soprattutto nella seconda stagione la prima è più lenta secondo me è proprio velocissima e quindi sì questo è un po' l'unico difetto però secondo me è bellissima Jujutsu Kaisen quindi niente io ve lo costruisco tantissimo sì uno dei miei anime preferiti forse non a livello di non so di Attack on Titan o di Made in Abyss o di Death Note ok però comunque siamo a livelli molto alti secondo me bene questo era tutto spero che ciò di cui ho parlato vi interessi un minimo se avete appunto dei pareri su queste cose su queste serie su questi film scrivetemeli sotto spero di non aver offeso nessuno però non lo so certe cose non le ho capite spiegatemele voi al massimo e fatemi assolutamente sapere il vostro parere soprattutto su quelle che a me sono piaciute di meno perché vorrei capire qualcosa in più o se no ditemi se siete d'accordo con me e niente io vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere un mi piace e di insomma condividere il video o lasciarmi un commento o quello che volete insomma e noi ci vediamo al prossimo video ti mando un bacio